Vieni qui! Ti faccio una manicure gratis! Ci sto! Adoro Dress to Impress! Cominciamo subito! Il nostro primo tema è Detective! Il guardaroba è laggiù! Perfetto! Inizierò con la manicure! Scelgo questo colore! Ottima scelta! Siediti e divertiti! Mi occuperò di tutto io! Hanno un aspetto fantastico! Grazie! Siamo pronte! Tocca a noi! Che ne pensate? Vai a cambiarti finché sei in tempo! Ok, torno subito! Nessuno potrà batterci! Che cos'è? Lana! Sono venuti qui per me! Qualcuno l'ha presa! Che sta succedendo? Ragazze, guardate il mio abbigliamento! Che succede? Lana è stata rapita! Questo è un disastro! Devo controllare la scena del crimine! Ora il nostro gioco preferito finirà per sempre! Che le prende? Sta impazzendo! Betty! Calvati! Hai bisogno di rinfrescarti! Non sono nemmeno riuscita a finire la manicure! Che schifo! È disgustoso! E adesso che faccio? Ci penso io! Indossa questi guanti! Oh, Betty! Ti ho trovata! Ehi! Chi è questo tizio? Non ne ho idea! Nate! Ehi! Sono così felice che tu sia qui! Che tristezza! Nate è mio amico! A me sembra terribile! Accidenti! Hai davvero bisogno di una spuntatina! Non esiste! Io le voglio così! Non capisci? Non è un suggerimento! Siediti sulla sedia ora! Che state facendo? Oh oh! Una lima per unghie non basterà! Abbiamo bisogno di attrezzi più pesanti da miei piedi! Bene! Iniziamo la procedura! Non riesco a guardare! Quanto ci vorrà ancora! Tutto fatto! Wow! Sono fantastici! Grazie! Ora dobbiamo solo pulire questo casino! Mac ha fatto un ottimo lavoro con lui! Guarda! Riesco a mettere le scarpe! È fantastico! Ma voglio ricordare a tutti che il tempo scorre! Dobbiamo trovare lana! E per farlo dobbiamo raccogliere degli indizi! Abbiamo un problema! Che succede? Non ho trovato niente! Fantastico! Stavolta siamo stati fortunati! Che puzza terribile! È vero! Aspetta! Oh! Ho un'idea! Spegniamo le luci! Ci pensiamo noi! Useremo la luce UV per cercare gli indizi! Guarda! Qui c'è scritto ti odio! Qualcuno l'ha minacciata! Hai ragione! È inquietante! È spaventoso! Dobbiamo seguire le tracce! Potremmo rintracciare il colpevole dall'odore! Un attimo! Questo profumo è davvero familiare! Toglietevi di mezzo! Credo di avere una vista! Betty! È il tuo profumo! Non è possibile! Stai sbagliando! Davvero? Meg! Tieni! Che cosa hai fatto a lana? Un attimo! Dicci la verità! Sono spacciato! Va bene! Vi dirò tutto! Me ne stavo lì ad ammirare il mio nuovo vestito! Poi ho deciso di spruzzare un po' di profumo per completare il look! E poi sono andata a trovare lana! Volevo farmi una nuova manicure! Tutti lo sanno che lei è la migliore! Quando ha finito, l'ho ringraziata e me ne sono andata! Thanks! Però poi mi sono accorta che la mia borsa era sulla sua sedia! Eccola! La sta tenendo Nate! Beh, che c'è dentro? È vuota! Non c'è niente dentro! Niente di niente! Fammi vedere di persona! Sì, ha ragione! È vuota! Oh! Guardate! C'è una lista di ragazze concorrenti scomparse! Smettila! Facciamo solo qualche altro scatto! Perfetto! E ora dobbiamo postare qualcosa su Instagram! Instagram? Sei seria? Che stai facendo? È un ottimo scatto! Anche il secondo è piuttosto buono! Decente! Un attimo, Meg! In questa foto sei con le ragazze del concorso scomparse! Che strano! E c'è anche l'ana! Ha vinto la gara! Cosa? È ridicolo! Mi ricordo questa foto! La storia era completamente diversa! Il tema di quel round era festa! Il tempo per scegliere un vestito era quasi scaduto! Lana ha passato tutto il tempo a fare la manicure alle concorrenti! Quando si è resa conto di non avere un costume era... Troppo tardi! Aveva solo un minuto! Mi è dispiaciuto molto per lei! Così ho scelto un bellissimo abito bianca per l'ana! Poi l'ho chiamata e gliel'ho offerto! Era entusiasta! E a quanto pareva le stava anche benissimo! Lana mi è stata così grata! Alla fine si è aggiudicata il primo posto nella competizione! Ecco com'è andata! Sì, certo! Bla bla bla! Sei così difficile! Ho un messaggio di ringraziamento da parte di Lana che lo prova! Sembra che tu dica la verità! Mancano solo dieci secondi all'ingresso in pista! Nate! Devi cambiarti d'abito subito! Ok! Oh, giusto! Me ne ero completamente dimenticato! Oh no! Il tempo è scaduto! Non preoccuparti! Ti chiederemo al pubblico! Ragazzi, commentate qui sotto! Vi piace il look di Nate? Bene! È il momento della rivelazione finale! Vediamo i punteggi! Ragazzi, votate per me! Il mio look è più equilibrato! Come giudicate questo vestito? Amici, com'è il mio vestito? Chi si aggiudicherà il primo posto? Perché è solo il terzo? Sì, ho vinto! Il secondo posto non è male! Ultimo posto! Perché? Grazie a tutti per aver giocato! Wow! Meg, guarda qui! Vedo un'impronta di macchia di smalto! E ci sono altre tracce! Vediamo dove portano! Wow! Queste impronte appartengono a Nate! Oh no! Mi avete scoperto! Devo scappare! Dove stai andando? Lasciatemi in pace! Devo andare! Nate! Torna qui! Abbiamo qualche domanda da farti! Non ho fatto niente di male! Siediti! Ora dici tutto quello che sai in fretta! Wow! Quanta luce! È il momento perfetto per abbronzarsi! Cosa? Sei seria? Dov'è Lana? Bene! Ascoltate! Nate ha corso da Lana per farsi fare una bella manicure, ma il suo locale era chiuso! Così Nate ha perso tempo e ha perso anche la competizione! Io gli ho detto che nemmeno io mi ero fatta le unghie! Nate ha suggerito di portare Lana Lore a lavorare solo per noi! Ho pensato che fosse un'idea divertente! E ho accettato! E allora questo è tutto! Torno subito! Devo controllare una cosa! Uff! Questo posto è orribile! Che succede laggiù? Dammi un minuto! Non vedo niente! Ehi! C'è qualcuno qui? Uff! Il mio piede! Ma che cos'è questo? Sembra il diario di Lana Lore! Ma ho bisogno di luce per leggerlo! Oh c'è una torcia! Per fortuna funziona ancora! Caro diario! Riesci a sentirlo? Chi c'è? Seguiamo il suono! Aiutami! Meg! Sei qui per me? Ero così preoccupata! Forza! Andiamo via da qui! Ottimo piano! Ma come faccio ad aprire la serratura? Non ho scelta! Dovrò usare la forza brutta! Bam! Mi sono fatta malissimo! Mi sono quasi rotta una gamba! Questa serratura è inviolabile! Lo sapevo! Non uscirò mai da qui! Sta arrivando qualcuno! Devo nascondermi! Spero che non mi vedano! Benvenuti nel salone di bellezza di Nick! È ora! È ora di fare cosa? Ci siamo scambiati i ruoli! Ora ti farò io la manicure! Passami le dita! Presto! Mi rovinerai le unghie! Non preoccuparti! Farò come un vero professionista! È un mostro totale! Non posso guardare! Mi ha sentito! Chi c'è là? Fatti vedere! Mi ha colpito! Ti abbiamo colpito! Tu cattivone! Pagherai per tutto questo! Lana? Andiamo! Ci siamo! Bingo! Scassinerò la serratura con questa lima per unghie! Ma come diavolo funziona? Ce l'ho fatta! Ottimo lavoro! E ora rinchiudiamolo! Fatemi uscire! Continua a sognare! Andiamo! Siamo tornate! È lei l'accomplice di Nate! Calmatevi! Calmatevi! D'accordo? Ora finirai anche tu in gabbia! Non fermarti ancora! Forse possiamo trovare una soluzione? Non è possibile! Tu mi hai catturata! Io non ti perdonerò mai! Entra qui dentro! Andrà tutto bene! Non per voi! E nel caso vogliate farvi le unghie! È una lima per unghie? È mia! Ho chiuso con questo posto! Vieni giù le mani! Lana? Stai bene? Abby! Sono così stanca! Che è successo? Ecco, tieni! Bevi un po' d'acqua! Sì! Grazie! Wow! Tu sai che avevi sete! Un attimo! Ora mi sono un po' calmata! Bene! Ti spiegherò tutto! Stavo finendo alcuni campioni di smalto per unghie! Quando Nate ha corso da me! Inflorando un complicatissimo disegno per unghie a tema circense! Mi mancavano solo 15 secondi alla fine del gioco! Gli ho detto che non c'era abbastanza tempo! Ma lui non mi ha dato retta! Poi ha tirato fuori la sua mazza da circogocchiabile e ha iniziato a spaccare tutto! È stato terribile! Non riuscivo a fermarlo! E questo non era abbastanza per lui! Ha preso il mio smalto rosso e ha scritto ti odio sul tavolo! Dopodiché il suo timer ha raggiunto lo zero! E Nate? Beh, ha perso! Mi ha incolpato e se ne è andato infuriato! Ho cercato di riprendermi e di pulire la postazione! Ma poi è arrivata Meg! Anche lei voleva una manicure tanto complicata! Ma io ero veramente stanca! Ecco com'è andata! È terribile! Tu non meriti di essere trattata così! È davvero ingiusto! Che posso fare per te? Lascia che ti faccia vedere! Ecco, voglio questo tipo di design! Dici sul serio? Perché mi stai facendo questo? Rilassati! Stavo se non scherzando! Mi hai davvero spaventata! È stato divertente! Il nuovo tema è Inside Out! Vado a cambiarmi! Ok, diamo un'occhiata al tuo look! Guarda che ne pensi del mio vestito! Abby, wow! Sei assolutamente splendida! Grazie! Guarda un po'! È così bello! Sono felice per lei! Benvenuta! Questo è lo spogliatoio della squadra di hockey della scuola! Meg, ti presento Riley! Ora lei giocherà con noi! Ehi, Meg! Cosa? Quell'affarino ora è una nuova stella nella squadra! Posso avere il tuo autografo? Come scusa? Cos'è questa triste imitazione della mia conciatura? Sparisci, ragazza, e taglia questo disastro! Non mettermi in imbarazzo! Perché è così cattiva? Non me l'aspettavo! È stata davvero dura! È ora di fare uno spuntino! Accidenti! Mi sono rovesciata il ketchup addosso! Ma dove sono? Oh! Ciao! Ma questo chi è? Ciao! Ci sono tanti bottoni colorati! Ops! Nessuno può trattarmi così! Ti sei messa contro la ragazza sbagliata! La mia vendetta non sarà dolce! Lasciami andare! Spile della tartaruga zappa! Vattene! Ok, ok, come vuoi! Bene! Ora Riley è completamente sotto il mio controllo! È ora di prendere le redini! Fammi uscire! Rovinerai tutto! Sciocchezze! La renderà più forte! È ora di darti una lezione! Ci penserai due volte! Prima di prendertela con qualcuno di più piccolo! Versiamo un po' di slime qui dentro! Questo aggiungerà un po' di grazia alle tue mosse! E indovina un po'? Ho un'altra sorpresa per te! Vediamo quanti gol farai senza il tuo prezioso bastone! È ora di prendere il posto in prima fila! Ora farò vedere a tutti come si gioca hockey! Sono la migliore della squadra per un motivo! Che c'è che non vanno i miei pattini? Sono tutti appiccicosi! Non importa un attimo chi ha incollato il mio bastone al muro! Meg, perché ci metti tanto? L'allenamento è iniziato! Ho dei problemi! Questo è irrispettoso nei confronti della squadra! Primo avvertimento! Ce l'ho fatta! Riley, questo non è da te! Ascoltate! Durante un attacco dovete lavorare per creare un vantaggio numerico! Capito, allenatore! Riley, vieni qua! Ok, arrivo! Ok, come devono muoversi i giocatori? Lo so! Datemi solo un secondo! Che sfigata! Non preoccuparti, ti aiuto io! Oh! Così rischi solo di perdere il disco! Questo è l'ultimo avvertimento! Cosa? Meg mi ha incastrata! La pagherà per questo! Ho fatto un grande casino! Ottimo lavoro, Meg! Stai facendo bene! Conosci bene le tattiche! Esibizionista! Beh, Riley non si arrende così facilmente! È ora di rendere le cose più piccanti! Non avresti dovuto mettermi in difficoltà! Farò di tutto per entrare nella formazione titolare! È geniale! Ora puoi sederti! Sta arrivando! Nascondiamo le prove! L'allenatore è rimasto impressionato! Il tuo obiettivo principale è preparare l'attaccante! Capito, coach? Oh! Perché la mia bocca va a fuoco? È ora dell'allenamento, Meg! Vieni qui! Sto arrivando, coach! Lavoreremo sul controllo del disco! Non lasciare che si allontani! Ci sto provando, coach! Lo sto facendo bene! Sì, la tua tecnica è solida! Riley, sei la prossima! Bene! Fatemi provare il controllo del disco! Un secondo! Chiamata importante! Non si preoccupi, coach! Mi eserciterò da sola! Devo solo lavorare sulla precisione! Attenzione! Il mio dente! L'hai fatto cadere! Ops! Questo è solo l'inizio! Ora sarà così per tutti! Ma che stai facendo? Anche per me questo è un po' troppo! Sembra che questa cosa sia fatta di vetro! Cercherò di romperla! Con me al comando! Riley farà spaventare tutta la squadra! Niente potrà fermarmi! Allontanati subito dai comandi! Questo non va bene! Devo sistemare le cose! È stato imbarazzante! Scusa, ti ho fatto saltare un dente! Ho uno sconto per una visita dal dentista! Grazie! Ti perdono! Non lo farò più! Ora va meglio! Riley è una ragazza davvero dolce! Non mi permerai più! Il telecomando è di nuovo mio! Tu sei un cattivone! Continuiamo! Ridammelo! Niente più sconti dal dentista per te! Che sta succedendo qui? Smettila! Riley, resta qui! Che succede? Mi ha fatto cadere un dente! Non preoccuparti! Andremo subito dal dottore! Ok, coach! Andiamo! Ciao, ciao! Oh! Credo di aver mangiato qualcosa di terribile! Non riesco a trattenermi! Torno subito! Bloody Joy è sparito! Questa è la mia occasione! Grazie per l'aiuto, Pouchy! Joy, attieni duro! Ti slegherò! Sbrigati! Mi sento una persona nuova! Oh oh! Buh! Non colpirmi! Non colpirmi! È stato troppo facile! Ci è mancato poco! Come osa trattarci così? Rabbia! Calmati! Stai per dare cuoco a questo posto! Aspetta, ho un'idea! Vediamo che c'è dentro Pouchy! Ha della dinamite! Questo è un po' troppo! Ehi! Non c'è bisogno di accumulare tutto su di me! Questo potrebbe tornare utile! Arresteremo Bloody Joy! Bene! Prendi la tua dinamite! Ci penso io! Polizia delle emozioni! Sei in arresto per aver dirottato i comandi! Lasciami andare! Il criminale sta opponendo resistenza! Dovrà usare la forza! Muoviti! Ora posso rimettere tutto a posto! Seguiamo il bastone di Meg a metà! Un attimo! Che sto facendo? È una cosa meschina! Meglio di no! È ora di fare un po' di pratica! Devo lavorare sul controllo del disco! Oh no! Era il mio bastone preferito! Dovrai giocare oppure no! Vuoi un cupcake? Grazie! Non direi mai di no! Vieni, prendilo! Sono orgogliosa di me stessa! Pensavi di poterti liberare di me? Neanche per sogno! Sei pazzo! Mi hai quasi uccisa! Bloody Joy contro Joy a secondo round! Sei finito! Meno male che ho guardato tutto quel wrestling! Mi arrendo! Ora torniamo al lavoro! Dov'era un rimasto? Vuoi un caffè? Allora bevilo dal pavimento! E non condividerò più alcun cupcake! Basta! Ne ho abbastanza di te, ragazzina! Time out! Che succede? È ora di indossare la mia faccia d'attrice! Voleva colpirmi! Chi voleva colpirti? Meg! Stai disonorando la squadra! Oh! È una questione personale! Cartellino rosso! Sei cuori! Vai! Bene! Giocate senza di me! Prima di tirare, assicurati di controllare la posizione del portiere! Capito! Cavolo, ho tanto sonno! Devo sistemare le cose tra Riley e Meg! Un bel ricordo dovrebbe bastare! Congratulazioni, Riley! Sei la migliore giocatrice della mia squadra! Riley ha già un trofeo! Anch'io ho fatto del mio meglio! Ben non è abbastanza, altrimenti quel trofeo sarebbe stato tuo! Non è per niente divertente! Non sta dormendo! Perché mi guardi? Povera Meg! Forse voleva solo essere lodata! Che sta facendo? Meg! Mi dispiace per tutto quanto! Possiamo di nuovo essere amiche? Beh, molto carino da parte tua! Quindi ora siamo d'accordo? Pausa! Riposatevi! Allora che ne dici? Ci sto! Torniamo ad essere amiche? Assolutamente! Abbracciamoci! Amiche! Speravo in una bella litigata! Ce l'ho fatta di nuovo! Riley! Mi stai facendo male! Mi stai schiacciando! Ma che diavolo ti prende? Scappa perdente! È ora dell'allenamento fisico! Mettetevi in posizione push-up! Pronti per l'esercizio! L'allenatore non sta guardando! Spostati! Cavolo! Sto benissimo con i papi! Meg! Perché stai sdraiata? Questa è una penalità! Mi ha incastrato di nuovo! Guardatemi tutti! Ottimo lavoro, Riley! Grazie, coach! Forza, Meg! Ricomponiti! Puoi batterla! Fantastico, Meg! Continua così! Questo è lo spirito di cui ho bisogno in squadra! Mi sta battendo! Le cose non stanno andando come previsto e adesso che faccio? Questa rete dovrebbe aiutarmi a intrappolare Bloody Joy! Preso! Vieni qui! Il tuo regno è finito! Vi farò causa per questo! Ben fatto, rabbia! Ottimo lavoro! Vediamo se riusciamo a sistemare le cose! Cinquanta! Ecco fatto! Congratulazioni! Non ci casco più! L'allenamento è finito, Meg! Hai fatto un ottimo lavoro oggi! Grazie, coach! Continua così! Perché non mi aspettano? Che succede? Ehi! Non avresti dovuto metterti contro di me! Ora cancellerò tutti i ricordi preferiti! Sporgiamone! Andiamocene! È ora di tornare a casa! Oh, ecco la mia borsa! Cos'è questo strano suono? Proviene dall'armadietto! Cosa? Perdente! Chi l'ha scritto? Potrebbe essere... L'allenatore! Entra! Oh! Questa sarà la tua nuova cosa! Non potrete fermarmi! Te ne pentirai! Bingo! Mi ero completamente dimenticato di Fauci! Le sue cose potrebbero tornare utili! Un attimo! Che ci devo fare con un accendino? Fai attenzione a quella dinamite! Atterra! È stato intenso! Devo andare! Grazie, sei stato di grande aiuto! Oh no! Questa emozione è irreparabile! Beh, ora siamo di nuovo amici! Ma che ho fatto? A volte mi lascio davvero trasportare! Mi sento così male! Possiamo fare una tregua! Ti prego, perdonami! Me ne vado! Ciao! Niente rancore! Sono stata una tale idiota! Devo sistemare le cose! Dammi la mano! Ti tiro fuori! Era così spaventoso lì dentro! E questo è il mio casco! Grazie! Vuoi giocare? Pace! Pace! E ora scendiamo in campo! Ora tutto è tornato alla normalità! Ciao a tutti! Wow! Questo posto è fantastico! Quanti polsetti colorati! Che succede? Se ne schiaccio uno? E tu che sei? Sono una nuova emozione! Ansia? Allora fai come se fossi a casa tua! Oh, che giornata! Beh, come volete! Ma penso che prenderò un po' esempio da voi! Vai lì a polizia! Chiando pacificamente! Che cos'è questo baccano? È ora di alzarsi! Vorrei poter dormire fino a tardi! Oh no! È già in nove! Me lo sono dimenticato! Oggi ho un esame! Allarme rosso! Non siamo pronti per questo! Ci cacceranno da scuola! Troveremo una soluzione! Ma che facciamo? Ci sono! Facciamo finta di essere malati! Cos'è questa tosse? Sentiamo! Oh no! Dobbiamo andare subito dal dottore! Ecco la nostra paziente! Dottore, Riley ha una brutta tosse! Ho capito! Dobbiamo visitarla e controllare la temperatura! Gioia presto! Calpiscimi! Bene, si parte! Ok! E questo lo chiami un colpo? Calpisci più forte! Ci provo! Prendi questo! Dai, dagli una bella botta! Spostati! Ecco a te! Mi hai fatto male! Sto bruciando! Vediamo cosa abbiamo! Accidenti! Stai davvero bruciando! Devi andare subito a letto! Ecco qua! E ora riguardati! Ce l'abbiamo fatta! Povera Riley! Che significa questo? Guarda quell'aggeggio! Le hanno messo una flebo! Ma che cos'è questo affare? Questi gadget medici fanno venire i brividi! Perché ce ne sono tanti? Interessante! Rimarrò qui a lungo! Ho bisogno di un toccasana per l'umore! È il momento del mio cioccolato! Adoro gli sneakers! Wow! Che buono! Ecco i risultati del testo! Che stai facendo? Dammelo! Non puoi mangiare il cioccolato! I tuoi zuccheri sono già alle stelle! Ma io adoro i dolci! Beh, dovrei rinunciare! Ecco cosa dovrai mangiare adesso! Che schifo! Non mangerò mai questa roba! Va bene! Allora proviamo in un altro modo! Ridammelo! È ora di fare un frullato di verdure! Frulliamolo! Uh, sembra che sia pronto! E ora versiamo questo cocktail in una siringa! Perché devi usare una siringa? È ora di fare una punturina! Questa è una brutta notizia! Dobbiamo salvarla! Un attimo, ho cambiato idea! Adoro i broccoli al vapore! Sono deliziosi! Disgustoso! Fantastici! Ora va meglio! Non ho più bisogno della siringa! Qual è la prossima mossa? Ah, dobbiamo fare un altro test! Apri bene gli occhi! Non vedo niente! Una luce celeste! Andrà lì fuori! La prenderà a pugni! Ho capito! Annottiamolo! Tornerò presto! Sono distrutta! È ora di andare a letto! Aiutiamo Riley a fuggire dall'ospedale! Facciamolo! Eccoci qui! E adesso proviamo con la porta! Questo è il nostro biglietto d'uscita! Apriti forza! Non riesco ad aprirla! Abbiamo bisogno di un approccio diverso! Ci sono! Attenzione! Non è possibile! Di chi è fatta questa porta? Mi state facendo impazzire! Oh, brucieremo qui! Devo attivare l'allarme! Non ho portato l'ombrello! È tutto pronto! Oh, sono calmo! Non arrabbiarti, ma dovevo farlo! Lascia stare! Dobbiamo capire come aprire la porta! Questi strumenti potrebbero aiutarci! Prendo una ciambella! Non ho capito niente! Dove va questo? Divertenti! È ora di mangiare la ciambella! Un attimo, ragazzi! Ho bisogno del vostro aiuto! Lasciate i vostri consigli nei commenti! Oh, ci sono così tanti commenti diversi! Fatemi dare un'occhiata! Oh, una ciambella! Ma come funziona? Non ne sono sicura! Fantastico! Così potrò finalmente mangiarla! Non ho scelta! Ma ricordate! Scassinare le serrature non è bello! Ce rinchiuderanno per questo? Che stai dicendo? Joy ha bisogno del mio aiuto! Forza! Puoi farcela! Oh, che dolce! Che bella prezza! Io credo in te! Ce l'ho fatta! La porta è aperta! Vediamo che c'è dentro! Uh, uno zombie! Ho bisogno del tuo cervello! Uh, correte! Che razza di mostro era quello? Non riesco a vedere niente! Finalmente le luci sono accese! È ora di tornare in casa! È tutto finito! E adesso che facciamo? Come facciamo a riportare Riley a casa? Non ho nessun indizio! Abbiamo bisogno di un piano! È così carina! Lascia che ti rimbocchi le coperte! Riley rimarrà bloccata qui per sempre! Sei così maldestro! Scusa! Non volevo! L'indosso delle scarpe da ginnastica bianche! Che è questo rumore? Tu chi sei? Ignoraci! È solo un sogno! Ok! E allora me ne torno a dormire! Bene! Ops! Rabbia vuole uccidermi! Calma! Nessuno ti farà del male! Lascia che metta un po' di musica rilassante per te! Bella! Ti senti meglio? Ora mi sento ancora più ansiosa! Spegni quel rumore terribile! Dammi il telefono! Oh! Hard rock! Che figata! Calmati! Ti perdono! Sta arrivando qualcuno! Dobbiamo andarcene! Come ti senti? Svegliati dormigliona! Avanti! Altri cinque minuti! È ora di alzarsi! Ho detto che è ora di alzarsi! Non voglio! E ora che faccio? D'accordo! Mi obbligherai ad usare un bisturino! Bisturino! No! Il bisturino! Troppo tardi! Taglierò questa bistecchina! Ti piace il pollo vero? Credo di sì! Grazie! La carne ti dà un sacco di energia! E tutto grazie alle proteine! Fantastico! Mi piace la carne! Ok! Allora mangerò tutta la bistecca! Voglio più bistecche! Dobbiamo essere super forti! Ecco! Prendi questo! Ma che succede? I miei occhi! Non riesco a vedere! Sto per cadere! Ops! L'ho ingoiato per sbaglio! Aiuto! Non riesco a respirare! Che cosa ho fatto? Oh no! Dobbiamo salvarlo! So cosa fare! Ho seguito un corso di primo soccorso! Ho rischiato di morire soffocato! È tutta colpa tua! Mi dispiace! Non volevo! Non ti credo! Non avevamo altra scelta! Devi avere qui le chiavi delle porte! Eccole! Seguitemi! Usciamo di qui! Un attimo! Dov'è Tristezza? È un po' che non la vedo! Povero dottore! Non possiamo lasciarlo qui! Spostiamo il dottore sul letto! Ci sono! Qui starà più comodo! Non arrabbiarti con noi! Ecco! Riprendi le chiavi! Ora dobbiamo andare! Come si sente? Che mi è successo? Perché mi gira la testa? Mi dispiace! Non succederà mai più! Lascia stare! Stavo solo cercando di aiutare! Ora devo riposarmi! Ehi! Per caso hai visto... Non mi importa! Davo prepararmi per il compito di matematica! Che cervellona! Tutto è tranquillo all'orizzonte! Ho un brutto presentimento! Non sono qui a mani vuote! Riley? È ora delle tue pillole! Sei pronta? Eccolo! È tornato! Campanelli d'allarme! Fermati! È un falso allarme! Va tutto bene! Pillole di odio! Non preoccuparti! Non fanno paura! Basta bere un pochino d'acqua! No! Non bevo niente! Candy Princess! Devi prendere le tue pillole! Quale? Questa! Fantastico! Visto? A lei piacciono! Questo dottore ha uno spasso! Mi piace! Non mi pedo di lui! Oh! Che spettacolo ancora! Quindi? Sei d'accordo? Lo sapevo! Siamo in pericolo! Voglio questo giocattolo! Ridammelo! Ora è il mio preferito! No! Ok! Te la sei cercata! Beh! Qual è la tua risposta? Slegami! È ora di prendere le pillole! Le cose stanno sfuggendo di mano! Ora calmiamoci! Darò a Riley un po' della mia forza! Io mordo! Questa ragazza ha perso la testa! Prendi questo! Abbiamo vinto! Devi rilassarti! È troppo! Nessuno mi obbligherà a prendere le pillole! Stupido ospedale! Mi fa impazzire! Spaventano sempre i bambini! Ora sarà peggio perché! Sei! Non c'è più modo di fermarci! Il dottore voleva solo aiutare! Che ho fatto! Non ci faranno più tornare in questo ospedale! Ho fatto di nuovo del male al dottore! Non mi perdonerà mai! Tutto è così triste! Riley ha bisogno del nostro sostegno! Forza! Non piangere! Andrà tutto bene! Sono tornato! Controlliamo la tua temperatura! Di... Oh! Ah! Perfetto! Solo un momento! Tutto pronto! Vediamo il risultato! Riley! Sei completamente sana! Oh! Lo sapevo! Ehm! Molto strano! Ah! Ora ho capito! Ecco qua la tua scelta! Pillola o test? Scelgo il test? Grazie dottore! Vado a studiare! Ottima scelta! Buona fortuna! Questo test non è stato difficile! L'ho quasi finito! E questo è il mio cartone animato preferito! Tesoro! Guardiamo insieme Inside Out! Facciamolo! Bei disegni! Prendo questi! Gioia e rabbia sono i migliori! Ansia e imbarazzo sono molto più fighi! Ecco che ne penso dei tuoi personaggi stupidi! Mamma! Vieni subito! Sono qui tesoro! Perché stai piangendo che c'è? Ho strappato i miei disegni! Oliver! Vai subito a pulire! Tesoro, non te la prendere! Guarda cosa ho per te! Li volevo da tanto tempo! Ti voglio bene tesoro! E assicurati di pulire tutto tu! Capito? Tu, piccola smorfiosa! Devo trovare una casa perfetta per i miei amici! Questa sembra carina! Ho un'idea! Organizziamo un vero matrimonio! Però manca qualcosa! Ci sono! Una bella sposa ha bisogno di un bel bouquet di fiori! Non ti porterò in braccio! Ho mal di schiena! Che romantico! È il momento del bacio! Un bacio veloce e poi a casa! Perfetto! Io non sbircio! Bene! Tutto fatto! Aggiungiamo qualche mobile a questa casetta! Che bella coppia che siete! Ma che sto facendo? Bambini, è ora di mangiare! Evviva! Sì, corri, vai pure! Questa è la mia occasione! Modificherò il progetto della casetta! Ora sarà molto meglio! Cavolo, stupidi palloncini! Prendete questo! Mi fate impazzire! Stupide bandierine colorate! E adesso che faccio? Ci sono! Tesoro, ho qualcosa per te! Tieni! Questo dovrebbe calmarti! Respira profondamente! Oh, prova! Inspira, espira! Mi sento meglio! Fantastico! Sei la regina dei sacchetti di carta! Smettila! Mi stai mettendo in imbarazzo! Ok, continua! Alice sta arrivando! Devo nascondermi! Io qui non ci sono stato! Sono piena! È ora di controllare i miei amici! Ma che diavolo! Perché c'è così tanto disordine qui? Questo non va bene! Puliamo! Questo cos'è? Non pulirò questa stupida stanza! Sei così divertente quando sei arrabbiato! Ci penso io! Davvero? Non smetti mai di stupirmi! Ora metto un po' in ordine! Il nostro appartamento dovrebbe essere pulito e accogliente! Molto meglio! Tesoro, ho fame! Questo non me l'aspettavo! E adesso che gli do da mangiare? Ci sono! Buon appetito! Dove lo troviamo il cibo? Oh, uno zainetto! Apriamolo! Aspetta! Potrebbe essere una trappola! Sento odore di pericolo! C'è qualcuno qui! Sei sicuro? Ora te lo dimostrerò! Apriamolo e basta! Preparatevi alla battaglia! Non c'è spazio per entrambi! Siete pronti ad incontrare il vostro destino? Prendi questo stupido zainetto! Ok! Avevi ragione! È innocuo! Vediamo che c'è qui dentro! Sbrigati! Sta morendo di curiosità! È un McDonald's! Lo adoro! Questo fastidioso zaino mi ostacola! Basta brontolare! Lo porterò via! Oh, dammelo! Anche io ho fame! Sono nel paradiso degli hamburger! Sembra gustoso! Proviamo! Fammi dare un morsetto! Stai calmo! Mantieni la calma! Non credo di essere ancora piena! Ordiniamone ancora! Ancora? Ho preso due Big Mac e tre cheeseburger! Aspetta! Perché mangi così tanto? C'è qualcosa che non va! Un attimo! Facciamo un test! Ho capito! Ehi, sei forse incinta? Lo scopriremo presto! Questo è un pranzo strano di sicuro! Hai fatto? Odio aspettare! Tesoro! Diventerai papà! Cosa? Sei sicura? Assolutamente! Ma io non so come si crescono i bambini! Non sei per caso felice? Come puoi pensare questo? Certo che sono felice! Guarda! Ho già un po' di pancia! Capisco! Tesoro! Dovresti sederti! Tesoro! Sento freddo! Ci sono! Mi sto già abituando! Grazie, tesoro! Ti senti meglio ora? Sì, ma ho bisogno di un cuscino più piccolo! Certo! Arriva subito! La mia pancia è a posto! E tu sei stato veloce! Ho fatto del mio meglio! E adesso? Voglio un cuscino più grande! Certo! Ne troverò uno! Chi è la tua mamma? Oh, avanti! Oh no! Ne voglio uno più grande! Stai calmo! Anche lei sta passando un momento difficile! Sarà una mamma fantastica! Uh! Cos'è? Tesoro! Ti ho portato un cuscino più grande! Era meglio quello di prima! Stai scherzando, vero? Non lo sai nemmeno tu quello che vuoi! Ah, il tuo papino è un po' irascibile! Oh, stanno iniziando! Come? Di già! E adesso che faccio? Tirami su! Hanno bisogno del mio aiuto! Tieni duro, Gioia! L'ambulanza sta arrivando! Dottore! Mia moglie sta per partorire! Non si preoccupi! È tutto sotto controllo! Voi aspettate fuori! Come osa dirmi quello che devo fare! Io odio aspettare! Chi ha inventato questa stupida attesa? Quanto tempo ancora dovrà passare? Sono passate ore! Congratulazioni! Hai una bella bambina! Ora siete genitori! Alice! Sì, sto arrivando!